Francesco, per me è un onore poter disputare la finale con te, quindi spero di dare il mio meglio, tu sei più forte Spero di non deluderti E secondo te chi vincerà effettivamente? Io sono sempre per gli outsider Anche io, sì sì Quindi in questo caso è l'Inghilterra 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 L'Italia Oddio, che è successo? L'Inghilterra 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 Parliata combattuta Eh, devo dire Quindi, per l'attento adesso farei 1 a 0 Eh, sarà così anche la finale, sicuramente, con la spagna che non possa al gioco, ma poi succederà questo. Prima calcio d'angolo, vediamo. Ma vede fuori, non l'ho vista dentro, mannaggia. Sarà proprio così. Eh. Quando che mette il gioco. No, non ricordo un po'. Il pasto. E' il ricaine. Bella. Che disimpegno. Ho ancora alta. Aiuto. Un po' regia. Nooo. Stacca grande giocata, ma... Bel primo tempo. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Dai, vogliamo alzare il livello. Lo so che mi stai lasciando giocare. Oh no. Non ci vogliamo parlare, in via Dio. Come se mi stacy integrano? Chi, come fa? Monalter, un altro momento. Come ci şuan? Farlo signor Arbitro, eh. Eh, volevo far vincere l'Inghilterra. Sì. Qua la difesa dell'Inghilterra è ben attenta, devo dire. Eh, mannaggia. Bisogna rivederla bene, eh. Beh, no, non mi ha chiudere. Eh, Nico Wiggins. Eh. Attenzione, qua arriva il vero sicuro. È invece, è invece. È una vita costantabile. Dai, 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 dai. Ai 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 ai. Nooo, cosa ho sprecato. Cosa ho buttato. L'ho mangiato quel subito? No. Siamo quasi alla fine. Vediamo se è un vero supplementario o qualcuno a scom... Terry Kane! The outside. Attenzione, uno a zero. Non ci sto credendo. Non ci sto credendo. Non ci sto credendo. Terry Kane. Mamma mia. Stiamo vedendo che il Tiki Taka non funziona. non è detto l'ultima parola, eh. Anche? Ah, qua qua lo potevo fischiare e non fischiare. Però per me va benissimo. Un po' da più. Un po' da più. Cos'è? Hai messo? Anzi, no, ultimamente. Vediamo se veramente è venuta a casa, vediamo. Ci proviamo a Morata, all'ultimo. Con tre minuti in vantaggio, finisce così, il finale dell'Europeo, attenzione, 1-0 in Inghilterra e Rick Kane, secondo me, è assurdo che io possa battere Francesco. Sarà esattamente così la partita, abbiamo fatto una simulazione. Complimenti, è stata una bellissima finale e grazie per questa partita. Grazie.